Ciao mio amato figlio, campione di gioia e felicità che tu possa nuotare tra gli angeli in paradiso e raggiungere traguardi che solo tu puoi. Siamo distrutti dal profondo dolore indescrivibile e immenso. Mamma Tiziana affida a Facebook lo straziante messaggio di addio al suo Daniele. Il giorno della tragedia il dolore era stato così forte da farle perdere i sensi. Daniele Ortolana, 19 anni, talento del nuoto, era alla guida dell'Apolo schiantatasi contro l'albero a Godega di Sant'Urbano, il luogo dove anche stamane è continuato il via vai di amici residenti. Girasoli e rose bianche per ricordare i quattro ragazzi morti ai piedi dell'albero dove l'auto ha impattato. Siamo qua per loro, dice un loro amico con la voce rotta dall'emozione, stenta ancora a credere di averli persi per sempre. Non avrei mai pensato sì di parlare le quattro così in un colpo e essersi svegliati domani mattina con la notizia che quattro amici erano scomparsi. Diciamo che ti cambia. Un tratto di strada noto per la sua pericolosità nella stessa curva di via Cordignano. Il 14 marzo 2019 sono morti altri due giovanissimi di 19-18 anni. Uno di loro era il nipote della famiglia Ortolan. Non immagino i suoi di Ortolan che hanno perso sia il cugino che il figlio. Sì, è una strada maledetta. Fra loro anche una madre che ha perso il figlio di un incidente 30 anni fa quando aveva 18 anni. E mi ricordo a mio figlio. Io domenica non ho fatto altro che piangere. Devono fare qualcosa, questa curva è maledetta. Ma per alcuni residenti il vero problema è la velocità. È una strada maledetta, è una strada così che corrono forte e purtroppo abbiamo anche protestato per la velocità, questo e l'altro, però non abbiamo concluso granché. Va presa, la velocità giusta. Qua i ragazzi sono portati a correre. Da Cordignano andiamo a Govega, montano su e via. Che la tragedia possa portare ad una riflessione, dice Don Celestino Mattiuz, paroco di Godega di Sant'Urbano, poi lancia un monito ed un appello. Chi deve provvedere dal punto di vista di dare sicurezza ai giovani di pensate alla vita, che ha un domani per cui evitare un oggi tragico per avventura, senza riferimento al caso specifico. Grazie a tutti.